È stata una partita combattuta, abbiamo lavorato molto bene sia singolarmente che collettivamente e poi il frutto della partita è l'impegno che mettiamo durante gli allenamenti e che poi viene fuori durante le partite. Non ho proprio un giocatore a cui mi ispiro, sono uno che piace molto il calcio e vedo quasi tutte le partite, quindi cerco di prendere il meglio un po' da tutti e per quanto riguarda se mi chiedono consigli sono uno dei più esperti qui in questa squadra e anche per questo che mi è stata affidata la fascia e cerco ovviamente nel mio piccolo se qualcuno mi chiede un consiglio di darglielo e di consigliarlo al meglio. Penso solo alla Fiorentina, poi se verrà una chiamata alla Nazionale sarò più che felice però per ora penso solamente a giocare bene qui alla Fiorentina. La squadra è fatta per vincere nel campionato, vogliamo combattere in tutte le competizioni sia Coppa Italia che Biareggio e il campionato, quindi scendiamo ogni partita per cercare tre punti e per vincere la partita. Grazie.